Il bambino cresce, dorme e deglutisce. Le sue ossa stanno diventando più forti. A questo punto le orecchie sono quasi in posizione. Il corpo del bambino ha due strati di pelle, l'epidermide e il tessuto sottocutaneo. I vasi sanguigni sono ancora visibili attraverso la pelle e il corpo è ricoperto da una lubrificazione protettiva chiamata Vernix caseosa. Se aspetti una bambina, il suo utero e le sue tube di falloppio sono già formati. I genitali di un bambino sono già visibili, ma dall'ecografia potrebbero non essere visibili. Se non è il tuo primo bambino, puoi già sentire che si muove. L'addome si stringe e si esercita una pressione su alcuni organi interni. È difficile respirare perché il bambino esercita una pressione sui polmoni. La pressione sulla vescica provoca una maggiore frequenza di minzione. Il corpo inizia a produrre più melanina e possono comparire macchie scure sul corpo. Queste scompariranno qualche tempo dopo il parto. I nei sul corpo possono diventare più scuri. A causa della bassa pressione sanguigna e del rallentamento del sistema cardiovascolare, si può talvolta soffrire di mal di testa, vertigini e persino svenimenti. Questo è normale e può accadere più volte al giorno. Attenzione, questi sintomi possono manifestarsi raramente e inaspettatamente. Le vertigini di solito si verificano con un improvviso cambiamento di posizione, ad esempio quando ci si alza rapidamente da una sedia. Per evitarlo, assicurati di muoverti dolcemente. inoltre. 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 inoltre.